Si chiama Partecipazione Democratica ed è l'associazione politico-culturale che sta al fianco del Partito Democratico ma che per il Partito Democratico fungerà da sprone per allargare il raggio di riflessione e di azione politica. L'ha presentata Stefano Buono nella sedia del partito in via Ferrari a Campobasso annunciando la convention prevista il 9 novembre a Venafro che si chiamerà Molise 2030. Più che costola del PD vuole essere uno spazio di discussione politica allargato viene data ufficialità della notizia oggi nella sede del Partito Democratico per rimarcare che io e molti altri amici che sono dirigenti del PD restiamo fermamente nel Partito Democratico e nel perimetro del centro-sinistra. Però uno spazio non vuole essere una corrente del Partito Democratico ma uno spazio di discussione politica allargata per aiutare il Partito Democratico e il centro-sinistra in generale a fare operare nei prossimi mesi e nei prossimi anni una riflessione politica approfondita sul futuro di questo territorio e del Molise. Si smarca dall'idea di essere una corrente del PD e Stefano Buono preferisce definire l'associazione uno spazio di discussione politica aperto tant'è che sono già presenti persone e personalità dice che hanno militato nella sinistra e o nel centro-sinistra. Vuole essere in sostanza una spina che spinga il PD al ragionamento e al dibattito in un contesto nel quale sempre meno c'è discussione politica e approfondimento. Non è un contenitore politico e basta, vuole essere uno spazio di discussione e di approfondimento politico che secondo me è particolarmente urgente in un periodo in cui prevale la superficialità delle valutazioni e non lo studio e l'approfondimento delle questioni. Sono tre le grandi sfide delineate da Stefano Buono e dai suoi soci la cultura, il lavoro e l'ambiente, sfide che vanno portate avanti in una società aperta e non come quella pensata da Salvini. Partecipazione democratica nasce in Molise perché oltre a queste tre sfide ce ne sono altre due importanti, sanità e infrastrutture. E qui con la chiarezza che gli è solita Stefano Buono precisa che i 220 milioni per esempio del contratto istituzionale di sviluppo sarebbero stati forse spesi meglio se investiti su una grande infrastruttura che poteva collegare il Molise con il resto del paese portandolo fuori dall'isolamento. Dunque da qui ricorda la prossima opportunità, la programmazione settennale che vedrà la regione tornare nell'obiettivo 1. Il Molise non ha motivo di esistere, lo dico senza polemica, 330 mila abitanti è una mancanza di risorse, un deficit demografico che ogni anno vedrà nei prossimi 20 anni la perdita di circa 1.500 persone che vanno fuori. Una sanità che non funziona e non si regge e una mancanza totale di infrastrutture, di grandi infrastrutture. Penso a una quattro corsiglie, penso al potenziamento delle rotaie. Se noi non riusciamo a mettere assieme e a fare un lavoro di cucitura sfruttando anche è soprattutto la prossima programmazione dei fondi strutturali europei che consentiranno al Molise di tornare a obiettivo 1, quindi avere un bel po' più di soldini da spendere e la strategia comunitaria attuale su fondi europei prevede che ci siano accordi interregionali tra le province confinanti. Ecco, noi dobbiamo cominciare a fare un lavoro di sinergia tra sindaci e regione per cominciare a programmare il futuro da qui al 2030, quale visione del Molise abbiamo e perché deve esistere e come rilanciarlo.